Katie è una performer di musical però non perfettamente realizzata che non riesce a fare questo lavoro esattamente come vorrebbe e questo nello spettacolo si percepisce perché lei ha una frustrazione di fondo molto grande legata a questa non perfetta realizzazione del lavoro che riversa in questo rapporto con Jamie mentre dal momento che lui invece è uno scrittore di successo e quindi Katie è una donna che diventa diventa gelosa diventa ossessiva diventa non diciamo così non si lascia coinvolgere dai successi del marito sempre questa cosa crea chiaramente delle tensioni interna nella coppia è una donna che perde un po di vista quello che è il rapporto quella che la la condivisione la complicità di un rapporto proprio dato che lei non è una donna felice appagata capisco che facendo questo lavoro perché insomma ci sono dentro e non fare quello che ti piace è decisamente pesante cioè è frustrante e Katie cade in questa trappola con tutte le scarpe insomma ma ho aggiunto qualcosa di mio momento in cui lei una performer di musical c'è un momento in cui questa cosa si percepisce molto perché lei ha fa dei provini per essere presa negli spettacoli e questi tre provini uno in particolare è un momento molto divertente dove chiaramente ho messo molto del mio perché so esattamente cosa si prova facendo un provino quindi questo è una cosa molto facile da fare ma un momento molto molto divertente intervallato da un momento con con il babbo di Katie con il quale lei si si confida ed è una cosa che noi performer facciamo quando i provini ci vanno male abbiamo sempre bisogno di una spalla su cui piangere e un altro pezzo al quale sono molto affezionata lo canto sempre con molto trasporto è il mio primo brano che sarebbe il finale dello spettacolo per me perché l'ultimo numero che lei canta quando trova questa lettera con la quale jamie la lascia e nonostante lei forse si aspetti anche di trovarla questa lettera non è completamente una sorpresa e forse proprio perché se l'aspetta non ha un moto di rabbia ma è veramente schiacciata dal dolore cantare una canzone pensando che hai un dolore dentro di quelli lancinanti è difficile all'inizio perché ti verrebbe da disperarti da fare da manifestarlo questo dolore invece manifestare il dolore proprio con la con la pesante con la con la passività col niente è una cosa estremamente emozionante è il primo numero dello spettacolo quindi è difficile anche arrivare subito al cuore delle persone però è una chiave che mi piace usare e mi coinvolge mi commuove molto fare quel pezzo lì per la prima parte dello spettacolo fino a che i due non si incontrano al matrimonio quindi si capisce che diciamo c'è un incrocio temporale il pubblico è abbastanza confuso non c'è dubbio e non non è chiarissimo che si svolgono i due momenti di lei e di lui a distanza temporale di cinque anni quindi il pubblico è confuso non riesce a mettere insieme i tasselli fino al matrimonio quando c'è questo scambio questo giro di boa lo chiamo io io ripercorro quello che già già mi ha cantato e già mi ripercorre quello che già io ho cantato e tutti i tasselli che hanno rimasto così un po' nell'aria nella testa del pubblico si ricompongono se il pubblico qui ha la pazienza di aspettare di lasciare in sospeso tutte delle caselle poi quelle caselle verranno tutte chiuse o comunque chiarite nella seconda parte del spettacolo ed è questa la soddisfazione e la sfida nostra di riuscire a portare avanti la la storia coerentemente nonostante sto balzello avanti andrà insomma cosa che nel cinema prima facevamo l'esempio parlando di memento è un film che è tutto un avanti andrà un avanti andrà un avanti andrà è complicato da capire ma qui ma lì c'è la forza della cinematografia che noi chiaramente non abbiamo noi siamo sempre noi in scena non posso pensare di tornare indietro nel tempo ringiovanendo cioè io ci posso provare interpretando un personaggio più giovane di cinque anni e quindi è più difficile la musica della prima diciamo della mia prima parte di spettacolo che è il mio finale dei cinque anni ha sicuramente un sapore molto più pesante molto più drammatico molto più intenso via via che io torno indietro che arrivo ai nostro al nostro primo incontro è molto più frizzante molto più non giovane in termini anagrafici ma emozionante è da farfalle nello stomaco e da primo incontro è da prima volta che si va a vivere insieme è da prima volta che si va contro i genitori quindi ha un sapore sicuramente più così più frizzante di contro antonello parte assolutamente frizzante energico e va a finire sempre più non cupo non cupo proprio intenso più più accorato più legato a una cosa che sta finendo Gesù Robert Brown ha fatto una cosa straordinaria che Dio gli mantenga la salute e la manino per scrivere perché noi ci auguriamo di sentirne altre di queste cose